Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi faccio vedere a che punto è il gioco Ciccio vs Zombies Siamo al settimo episodio e oggi andiamo a vedere alcune feature che ho aggiunto all'interno del gioco Come si può vedere già dal menu principale, quindi dal nostro progetto con Construct 3 Ti ricordo che questo è un tool che ti permette di sviluppare videogiochi semplicemente utilizzando blocchi Quindi senza scrivere un linguaggio di programmazione Che per iniziare potrebbe essere davvero il tool che può avvicinarti davvero tanto a questo mondo E ti ricordo che in descrizione trovi due link completamente gratuiti a due videocorsi miei Dove io passo passo ti vado a insegnare in un videocorso come sviluppare un platform E nell'altro invece come creare un crore di Flappy Bird Quindi se vuoi avere maggiori informazioni riguardo questi corsi ti basta semplicemente cliccare i link che trovi in descrizione Oggi in questo video vi faccio vedere appunto qualche novità che ho fatto all'interno del gioco Mi manca veramente poco finirlo, devo soltanto impegnarmi nell'ultima fase che è quella di completare i power up Aggiungere le skin e poi c'è soltanto la fase di testing per renderlo molto molto più difficile Che lì appunto mi aiuterete voi Infatti le persone che fanno parte del gruppo Facebook sviluppare giochi avranno la possibilità di provarlo in anteprima Spero questa settimana o la prossima di mettere un link provvisorio per 3-4 giorni Per ricevere più feedback possibile per questo gioco Come già si può vedere ho aggiunto dei power up Allora questi qui come vi farò vedere ora all'interno del video Sono delle immagini che vengono avviate nel momento in cui tu raccogli il power up Un po' per indicare al giocatore che sta giocando quale power up ha raccolto Quindi come possiamo vedere c'è ad esempio Marco, c'è Favij, c'è Giampiero, c'è Roberto Fanizi Manca ancora Davide Morabito e Lillo, il papà Merrino Sono ancora dei power up tutti in prova Infatti le immagini stesse sicuramente non saranno queste qui Ma ho preferito importare delle immagini provvisorie che proprio non importarne completamente Il classico play solder Avevo pensato anche di mettere un quadrato Ma volevo vedere appunto qual era poi l'effetto di questi power up che entrano Che adesso vi farò vedere Clicchiamo quindi il bottone play così vi faccio vedere direttamente le modifiche Allora cosa ho fatto? Dal punto di vista del menu principale non è cambiato completamente nulla Quindi ancora devo lavorare alle skin Appena schiacci il bottone play inizia il gioco E verrà caricato appunto questo tutorial che ti sta a indicare che con WSD ti muovi E ti serve il tasto sinistro per sparare Quando sparo sui nemici ecco qui che potete vedere che appare una ghiaccia di sangue a terra E in più cosa succede? Succede che c'è lo schizzo del sangue che va verso la direzione in cui era il colpo E' una cosa ancora da modificare perché attualmente come parametro ho preso la posizione del mouse Che non è corretto Nel momento in cui muoio ci sarà la classica scossa Che appunto va a eliminarmi una vita E ancora non ho aggiunto all'interno del gioco la possibilità appunto di prendere nuove vite o altro Come puoi vedere ci sono questi schizzi di sangue che sono veramente molto fighi Però una cosa che sicuramente farò per non appresentire il gioco E' praticamente eliminare questi schizzi di sangue dopo un po' di tempo Perché se tu uccidi 400 nemici ti ritrovi 400 png solo degli schizzi di sangue Ho aggiunto anche un effetto particolare a schermo che quando ad esempio io uccido un nemico Come puoi vedere il teschio del contatore si ingrandisce Quindi potrebbe effettivamente starci E la stessa cosa vale per quando invece trovi le monete Inoltre devo ancora sistemare lo Zord delle chiazze di sangue Però è una cosa provvisoria quindi ancora ci sto lavorando Ho messo delle particelle di un fuoco sia a sinistra che a destra dietro questo palazzo E voglio iniziare ad abbellire tutto il pavimento sia con zombie morti Perché nel pacchetto che ho comprato degli assets ho trovato anche degli zombie feriti Che possono essere ad esempio messi a terra a bordo della mappa Per aggiungere ovviamente maggiore dettaglio all'interno del gioco Vi faccio vedere il power up adesso ce ne sono 10 qui a terra Infatti è un bug che devo sistemare Quindi riavvio il gioco per farvi vedere appunto cosa succede quando prendi un power up Attualmente ho fatto che il power up appare solo quando uccidi 10 o 8 nemici non ricordo Però questa cosa ovviamente è tutta da sistemare in base anche alla difficoltà del gioco E devo vedere attentamente qual è la soluzione migliore Quando prendi il power up ecco che appare questa scritta Tutta ancora in prova Rallecce questo rallenti e poi ti trasformi in Marco Merrino Dove puoi appunto schiacciare tutti i nemici per un tot di secondi Tot di secondi che ancora non entrano ma li sto già preparando Dove appunto entra questo timer che appunto ti sta a indicare la durata del power up che tu hai raccolto Quindi se ad esempio prendi Marco Merrino durerà 10 secondi Se prendi Favij durerà 20 Se prendi un altro potenziamento durerà di più o di meno Quindi devo valutare tutte queste cose qui Ad esempio fino ad ora non ho fatto l'icona dei power up Quindi devo andare a realizzarle Ho realizzato questo place order 0, 1, 2, 3 e 4 Dove lo 0 sta a indicare Marco L'1 sta a indicare ancora Marco perché ci sto lavorando Il 2 indica Favij Il terzo Giampiero e così via Questa è praticamente l'animazione che fa invece quando li trasformi in Marco Merrino Siccome su ITC ho trovato un pacchetto di particelle che posso riutilizzare Quindi di effetti proprio come in questo modo Vorrei fare che praticamente quando tu raccogli un power up rispetto che un altro Non ci sia sempre questa animazione Quindi ad esempio questa animazione per Marco ci può stare Però per altri power up ci saranno altre animazioni Vedrò un po' come comportarmi se ci bastano per tutti E se l'effetto effettivamente è carino Voglio mettere anche degli oggetti che capitano a terra Come ad esempio l'esplosione che ci fa esplodere tutti i nemici Che avevamo visto già nell'episodio precedente Voglio aggiungere anche un power up che si è raccolto per 8 secondi Ad esempio si vede rallenti Tutte queste cose qua che possono essere utilizzate all'interno del gioco Per una maggiore giocabilità credo di non mettere dei potenziamenti speciali Cioè non vorrei mettere un terzo tasto Perché io sto creando questo gioco tenendo conto che uscirà sia per mobile e desktop E quindi devo cercare di trovare un giusto compromesso per entrambi Quindi l'idea di mettere un nuovo bottone a schermo non è che mi piaccia così tanto Sto lavorando quindi attentamente a questo Nel game over non è cambiato nulla C'è sempre il solito game over che entra con le solide scritte Però ci sto appunto anche lavorando anche in quello Una cosa che sicuramente voglio aggiungere per renderlo veramente migliore Sono degli effetti particolari a schermo che non devono mancare Quindi ad esempio l'effetto del vento o altre cose che possono apparire Una cosa che sto cercando attentamente ma che non riesco neanche a comprare perché non la trovo E' degli effetti di fumo che volevo aggiungere randomicamente nella mappa Invece di copiare e incollare il fuoco un po' ovunque Questo è il risultato del gioco Credo che massimo due settimane potrebbe anche finire Tutto dipende anche dal lavoro che ho Perché oltre a youtube sto portando avanti anche una serie di progetti personali Quindi non so se riesco a seguire attentamente il tutto Devo andare a sistemare ancora alcuni zombie perché ci sono alcune animazioni che si buggano Infatti devo ancora capire come mai succede Ecco ad esempio qui ho scoperto che il frame di questo personaggio è completamente diverso Quindi ad esempio adesso lo prendiamo e lo mettiamo in quarantena Così capisco che questo qui è sbagliato E ci sono altri zombie che appunto hanno questi piccoli problemi quindi vanno sistemati Questo quindi è il risultato del gioco L'effetto del sangue mi piace veramente tanto come è venuto Anche questo effetto del fuoco ho trovato gratuitamente su internet Spero nei prossimi giorni anche di fare dei piccoli test già direttamente su android Quindi iniziare a testarlo lì Credo che dovrebbe andare tutto bene E una cosa che forse riesco ad aggiungere Non solo sono i comandi a schermo Quindi ovviamente la possibilità di poter giocare da mobile Ma vorrei aggiungere forse la possibilità di giocare anche col joypad Non è sicuro ma forse sì Come puoi vedere quando Marco ad esempio tocca ai nemici Ancora non succede nessuna esplosione non succede nulla Però una cosa che ho voluto aggiungere ogni volta che tu uccidi un nemico C'è la telecamera che trema Mi piaceva aggiungere questo effetto Tanto durerà per 10 secondi Poi dopo 10 secondi ti rimpicciolisci Devo vedere anche gli altri personaggi che power up avranno Però già ho pensato alcune cose Ad esempio Favijai magari sparerà due colpi alla volta invece di spararne uno Giampiero magari spara in direzione sopra, sotto, destra e sinistra Lillo ad esempio ha la possibilità di sparare un qualcosa d'ampio raggio Come se fosse un fucile a pompa Quindi tutte queste cose qui Vanno soltanto ad aiutarti Power up ti deve sì aiutare Ma deve essere anche figo a schermo Dimmi anche cosa ne pensi dell'animazione che appare quando raccogli il power up È una cosa in cui ancora ci sto lavorando Anche effetto del rallenti Tutte queste cose qua Spero anche di farvi vedere in un video tutorial come ho fatto questa cosa del rallenti Perché è veramente una figata Era la prima volta che le implementavo Sapevo come si facesse però non l'avevo mai utilizzata E ci sto ancora lavorando Però è figo che ti da quest'anteprima Che ti dice Croix Poi ti appare il personaggio Se questo video ti è piaciuto Quindi ti invito di lasciare un like Fammi sapere cosa ne pensi tu di questo gioco Ovviamente Se anche tu vorresti provare questo gioco Fammi sapere con un commento qui sotto Che io vedo il più possibile di pubblicarlo sul gruppo facebook In modo tale da ricevere i primi feedback da parte vostra Fatemi sapere quindi in generale anche cosa ne pensate di questo gioco E ancora tutto molto in prova Per migliorare il gioco dal punto di vista della difficoltà Ci lavorerò soltanto dopo Quindi ad esempio potrei anche mettere che all'interno del gioco Tu puoi decidere tre modalità Tra cui facile, medio e impossibile Che facile e medio vanno a cambiare Ad esempio il numero dei secondi dello spawn Che sono più grandi Quindi ci saranno meno zombie Mentre se tu giochi in una modalità impossibile Compaiono veramente tantissimi zombie Quindi posso anche mettere più difficoltà È una cosa che non vorrei fare Però volendosi potrebbe fare Tutto il possibile Se anche a te piace l'idea di vedere ogni giorno Un video riguardo il mondo dello sviluppo di videogiochi Per supportare anche questo canale In modo tale che più avanti posso portare anche video migliori Quindi per avere un feedback anche migliore da parte vostra Perché se ricevo più feedback positivi Sicuramente investo anche i più soldi Nell'attrezzatura, nella qualità di questi video Anche nel contenuto ovviamente Tutto dipende da voi Quindi vi invito di o iscrivervi al canale Se vi piace l'idea di vedere ogni giorno Un video riguardo il mondo dello sviluppo di videogiochi O vi basta semplicemente cliccare il pollicione in su Per lasciare un like Per questo video è tutto Fammi sapere assolutamente cosa ne pensi E ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video Quindi ci vediamo ovviamente domani Ciao